Sì, sì, perché sennò è troppo grande e troviamo difficoltà a farlo esatto. Va bene, non è freddo. Beh, non è plusso che tu. Eh, perciò subito. Vedi, si vede la testa, questo è il corpiscino, si vedono gli altri, le sue le manine, le gambe. Questa la manina è chiara e chiara. Va bene, ok. Per questo è una visita inutile. Il sede tirano, no? Ma il sede tirano come lì. Va bene. Alla c'è la manina di.